diamanti subito diamanti dietro diamanti questo è incredibile questo video ragazzi dovete lasciare un sacco di like adesso ragazzi tagli un attimo perché devo andare nel nether da fuoco ragazzi abbiamo trovato la nether rights siamo nel nether e abbiamo trovato un pezzo di nether rights e questo è il primo eh ma noi troveremo altri vai fofo ora vi velocizziamo questa parte che figata subito subito con le tnt vado sopra la nether rights la giappia subito tutto quanto ma stiamo andando con la gerino ragazzi tre fattutissime nether rights ragazzi uno ne abbiamo quattro mamma mia ragazzi siamo andati no perché io ho tagliato tutta la parte perché sennò poi diventava noioso siamo andati no a casa un secondo che ho tagliato abbiamo ucciso più creeper che potevamo abbiamo fatto la dmt e canto poco a moto di monosso a che è roba ma ora ora ragazzi non taglio perché dobbiamo cazzeggiare per questo adesso hai mai è un casino che sono in gradi cui vuoi vuoi fulghi fulghi e mi parecchia come giuloso uno di nethert davvero ho visto bene sì c'è un'altro di nether rights per farla non c'è sfizio abbiamo quattro di nether rights vediamo un altro di nether rights no 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 di sicuro facciamo l'ultima volta con le tnt e poi ci salutiamo, facciamo esplodere l'ultima volta e poi dopo ci salutiamo no non è uscito niente stavolta, no è uscito l'altra volta ci vediamo alla prossima, saluta fofo ciao